Ciao a tutti ragazzi, io sono SantaSegli e benvenuti su un nuovo vlog sul primo canale, oh mio Dio, wow Allora, passiamo un po' di tempo dall'ultimo vlog sul primo canale e oggi parliamo di tante cose Tra cui il fatto che forse il microfono sta registrando, quindi speriamo a registri Allora ragazzi, questa settimana sono tornato dal Romics, anzi, no, questa, vabbè sì Questa settimana perché sono tornato lunedì, quindi iniziamo a parlare di questo E poi parleremo di altre cose, tra cui il canale anche, oh mio Dio, ho anche un canale YouTube, chi lo sapeva Allora, eh, prima cosa, guardo la webcam poco perché c'è riflesso negli occhiali Quindi provisco guardare il monitor che almeno, così, non arriva a riflesso, più o meno, cioè, più o meno Ok, seconda cosa, sì, ho la barba, fotte seco Eh, terza cosa, parliamo del Romics, allora, eh, torno da circa sei giorni passati a Roma Sono stati sei giorni fantastici Eh, ho incontrato, eh, persone del Network, eh, che, eh, comunque, fino a sei giorni fa Dieci giorni fa, conoscevo soltanto su TS E sono GG, Chip, Xander e Pepo Eh, sono state persone, sono delle persone fantastiche Come lo sono anche, eh, sul web Si siamo divertiti vero un sacco a Roma Eh, i primi giorni, eh, sono stati giorni molto statici Abbiamo fatto tante cose, eh, abbiamo deciso comunque di andare prima, eh, delle giornate del Romics Perché vogliamo conoscerci di più Vogliamo comunque stare un po' assieme Perché non ci capita molto spesso di, eh, poterci trovare tutti assieme E quindi abbiamo deciso di fare più giornate, eh, più giornate Anche se il Romics era solo tre giorni Eh, mi sento, erano quattro, però, ok Ehm, comunque, eh, non ho fatto video su Romics Perché sostanzialmente non, eh, sono riuscito a fare tantissime foto dal mio cellulare E quindi la maggior parte delle foto che ho fatto con voi, eh, sono sui vostri cellulari Quindi siete persone cattive perché mi avete inviato foto sulla mia pagina Facebook Perché non la seguite, siete persone cattive Quindi, cosa fai adesso? Tu vai giù Guarda, c'è in descrizione una cosa tantissima Chiamata pagina Facebook Vai a controllare il post in cui ti ho chiesto la foto E tu me la metti Perché tu hai fatto la foto con me No, comunque siete stati tantissimi Non mi aspettavo così tanta gente Cioè, nel senso, con Pepo te la puoi aspettare Pepo ha, comunque, un bacino d'utenza molto, molto più grande rispetto, eh, a noi altri E quindi, eh, è normale che le persone avrebbero fermato L'avrebbero fatto le foto con lui Però, per esempio, eh, io e Gigi Che comunque eravamo quelli con meno iscritti Comunque, ce ne abbiamo parecchi Però, eravamo con meno iscritti Ci abbiamo preso molto la leggenda Nel senso che pensavo, vabbè, dai, tanto qualcuno ci fermerà Ci dirà, oh, ciao, tu sei Ulisse Tu sei Gigi, ciao E, sicuramente, non è stato così È stato anche peggio Nel senso che, eh, nei giorni in Rovis Abbiamo avuto davvero un afflusso gigantesco di gente Gente che veniva a salutarci Eh, che veniva a parlare con noi Che ci chiedeva di Luke Perché, la domanda che, generalmente, sorgeva era Dov'è Luke? Non c'è Luke Mi dispiace E, davvero, abbiamo incontrato davvero un sacco di gente Un sacco di voi E siete stati fantastici Perché ci è divertito davvero un mondo In questi tre giorni Mi abbiamo passato a Romics Però iniziamo dal primo Allora, il primo giorno del Romics È stato molto fiacco Nel senso che era il venerdì sera Non c'era molta gente Abbiamo usato questo venerdì sera Per poter andare in giro per la fiera Infatti è stato il giorno in cui ci siamo bossi di più E abbiamo visto un po' come era la fiera I vari stand che c'erano Comunque, i vari padiglioni Mi sembrava 4 o 5 in totale E devo dire che era fatta abbastanza bene E il primo giorno si poteva camminare C'era uno spazio gigantesco per poter camminare Io non mi aspettavo che l'artigiani fosse stato tremendo Invece no, era tremendo Troppo tremendo E, devo dire, il primo giorno è stato molto calmo Ci siamo divertiti Sto andando in giro a vedere, tipo, che ne so, cose di comics Abbiamo visto Stavamo cominciando Chip a comprare degli Aoi Perché non sapesse cosa sono degli Aoi Sono dei pornazzi gay No, Chip non li ha comprati, sfortunatamente Ok E, diciamo che abbiamo visto un po' di anime Cioè, di anime, più o meno comics Comics, manga Vari stand dedicati a League of Legends A videogiochi in generale Abbiamo visto un po' la parte di videogiochi del Romics Che era piccolissima Tra cui ho fatto anche un S In una piattaforma dove c'era, tipo, la console con l'ultimo Naruto Tipo ho fatto una strage Zabuza contro il tizio con le quattro coda No, com'è che si chiama? Vabbè, tizio con le quattro coda, insomma E, quindi, OP per Ulisse E, comunque, oltre questo Diciamo che Il primo giorno è passato così Un po' andando in giro Oltre questo abbiamo fatto anche delle foto Con alcuni ragazzi di Tom Sardewer Tra cui anche, c'era anche Roberto Che sarebbe Kaledan E abbiamo conosciuto Un po' di youtuber che Conocciamo su YouTube Ma non ce l'avevamo mai parlato di persone Quindi è stata anche un'esperienza formativa Perché abbiamo conosciuto comunque nuove persone Nuove persone E tutto qui, bam Finito il primo giorno Secondo giorno, sabato Oh mio Dio, troppa gente Ce l'avevano tanta gente Non si poteva camminare E... Dovevamo incontrarci da qualche parte Nel senso che Molto spesso Trovare voi È più complicato Di quanto Pensassimo Quindi Cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato Uno stand Che non era uno stand Era una parte dove Tipo la gente Stava facendo delle foto Perché era libero E quindi una cosa Abbiamo fatto Bam Infilatici lì dentro Ci siamo infilati lì dentro E abbiamo fatto uno stand abusivo In cui la gente ci veniva a trovare Tipo Siamo riusciti a trovare delle sedie Ci siamo seduti Nello stand Tipo È stata una cosa fantastica Perché Era diventato il nostro stand Anche se in realtà Non l'avevamo Non l'avevamo preso noi Quindi Noi troviamo le stand a caso Quindi GG per chi Ci offre le stand gratis Perché È una grande e bella cosa E quindi Cosa è successo? Diciamo che Il sabato si sono venuti Davvero in tantissimi Ci siamo davvero stancati Un sacco E Abbiamo incontrato Anche gli I feedback Oh I feedback I feedback Abbiamo conosciuto Anche alcuni Admin del TS Che sono da danni e fuoco Abbiamo conosciuto Mod del TS Che c'era anche Stefiomane Ex moderatori Ex admin Comunque Un sacco di Intelligente E Ci siamo divertiti Di avere un sacco Siamo andati a casa Ad Xander Perché abbiamo alloggiato A casa di Xander Alloggiato è un termine Molto Molto Grande Per poter Diciamo Riferire al Dormire Dormire Sì Dormire basta Alloggiato a casa Ad Xander E siamo arrivati a casa Ad Xander Abbiamo fatto una Mega mangiata Tutti assieme E ci siamo divertiti Di avere un sacco Anche Stando assieme Oltre che con voi Con gli altri ragazzi Del network Che Vediamo Poco spesso Vero Quindi questa è una brutta cosa Però Ci sono queste giornate In cui riusciamo a trovarci E oh mio dio Una figata pazzesca Quindi GG Per queste giornate Bene organizzate Domenica Domenica è stata Un qualcosa Di Inescrivibile Tipo Oddio C'era Troppa Troppa gente C'era più gente Di sabato Non si poteva davvero Camminare Domenica E Lo stand Che abbiamo preso Il giorno prima C'era ancora Sporco Perché la gente Non capisce Che ci sono dei bidoni Quindi Vai buttare la roba Nei bidoni No Butta la roba Per terra Stronza Perché Ci sono dei bidoni Butta nei bidoni Non capisco la gente Perché doveva farlo Ora Escurso sa parte E Abbiamo fatto C'era davvero Più gente Del sabato Invece abbiamo trovato Un sacco di voi E anzi Siamo stati costretti Domenica Ad andare per esempio Anche fuori Perché è vero C'era troppa Troppa gente E Iniziava a mancare l'aria Quindi Siamo incontrati anche Con voi fuori Abbiamo incontrato Altra gente Altri youtuber Siete davvero Tremendamente Tantissimi Quindi vi ringrazio Da parte Anche di tutto il network Per essere venuti A trovarci Anche se non Se non abitavate a Roma Come noi Insomma Lunedì è stata una giornata Molto normale Insomma Che Insomma Cosa abbiamo fatto Ci siamo svegliati Abbiamo mangiato Preso il treno Arrivato a casa Alle 11 di sera Prendo il treno Per arrivare nella mia città Città E Boom Ananna Già dopo Scuola Oh mio dio E questo era il romix Ci siamo divertiti un sacco Ed è stata un'esperienza fantastica La mia prima esperienza Sicuramente In un comics gigantesco Perché Il comics che ho visto Più grande Era stato il BG Che comunque Ha i suoi numeri Ma non Gli stessi numeri del romix Pareri personali Su romix Non è fatto Per gli youtuber Nel senso che Non Lo consiglio Agli youtuber Perché C'è poco gaming A meno per quelli che fanno gaming E Non Non ci sono spazi Per potervi incontrare Nel senso che Ci sono davvero pochissimi spazi Per incontrare I ragazzi di T-Sai 1 Quindi Non lo consiglio davvero Brutta brutta cosa E Quindi Facendolo comunque L'anno prossimo L'anno prossimo Ho deciso di fare del cosplay Perché Mi piacciono Gli anime e manga E quindi Cosa fare a Robins Che Penso sia Dopo Luca Il più grande comics Cosa fare Fare un cosplay Quindi farò un cosplay Di Saito Di Zero No Tsukai Ma Insieme a Quifar Probabilmente Quindi Yeah E Questo quindi Sono i miei proposti Per l'anno prossimo Nel mentre Parliamo un po' Di cosa faremo Questo mese Infatti questo mese Saremo il 22 No Il 24 25 26 Al Games Week A Milano Ci sono tantissime ore Per arrivare a Milano Soprattutto a me Che vengo da Bari Però Tranquilli Arriveremo Abbiamo già Un albergo Arriveremo Cioè Saremo tutti e tre giorni E avremo uno stand Di Tom Sand Quindi principalmente Magari non il venerdì Che è il primo giorno Il venerdì probabilmente Andremo un po' in giro Come abbiamo fatto anche per i Romics Perché Molto spesso Capita che Il sabato e la domenica Sei Diciamo Un po' Non predisposto A Andare in giro Perché c'è tanta gente Che Ti circonda E quindi Sei come Lì Nell'angolo del muro Non ti puoi muovere Oddio Che è una cosa fantastica Allo stesso tempo Deludente Perché non puoi vederti nulla Quindi Il venerdì andremo in giro Anzi Penso che Avremo dei pass Per poter andare un po' in giro Senza fare delle file Quindi ringraziamo Roberto Ceredan Per averci dato questi pass Se non ce li darai Cose brutte accadranno a te Quindi Sì Questo è un Qualcosa di brutto Verso di te Quindi pass Vogliamo i pass E andremo un po' in giro A vedere i nuovi giochi Io sono interessato a far creare 4 Gigi l'ha provato Al romix E non me l'ha detto E io invece andrò a provarlo Al games week Quindi andrò a provare Vari giochi nuovi Andrò a provare Nuove console Per vedere se Davvero sono questa gran cosa Cosa che non lo sono sicuramente E niente Andrò a vedere un po' in giro Cosa c'è al games week Che è Diciamo la nostra terra Perché È tutto gaming Quindi Wow Bellissimo E Se volete trovarci Visto che Comunque adesso sarà un po' più facile Nel games week Ci troverete Picciolamente Nello stand di Tom's In quanto È uno stand Molto molto grande Penso sia uno dei più grandi Se non sbaglio Roberto mi ha detto Che è Circa 120 metri quadrati Oh mio dio Gigantesco E quindi ci troverete Davvero tranquillamente Lì E quindi Mi dice a trovare E potremo fare due chiacchie Delle foto Come abbiamo fatto anche Al romix Quindi GG Ci vediamo al 24 A Milano Per chi abita lì E per chi non abita lì Mi spiace Vedremo magari nel prossimo evento Qualsiasi Che avverrà Che probabilmente sarà Il comic Probabilmente sarà il comic Il prossimo evento E Quindi questo Per quanto riguarda Questo mesetto In cui io non ho studiato Perché Passerò 20 giorni Fuori casa Cioè Già 10 ne ho passati Cioè Se Passerò di fuori casa Ne passerò altri 5 Fuori casa La fine di ottobre Quindi sono un po' Nella cacca E questo è anche il motivo Perché sto caricando meno video Stronzate Perché sto caricando comunque Più video del Del mese scorso Comunque Per quanto riguarda Invece il canale Partiamo sul posto Che Sto cercando di Tenere Sempre I 4 video giornalieri Ora sto uscendo sempre Un video di Naruto Che Dovevano uscire Durante Romics Però non ho avuto tempo Per far uscire Perché come ho già detto Tornavamo stanchi E la programmazione Non la volevo fare Quindi Nanna Basta Non ci avevo fatto Non ho fatto Cioè avevo programmato Avevo fatto 12 video Per No Più di 12 video Mi sembra 18 video Però Nel fatto Ci erano appena 8 7 Quindi La maggior parte Di video Che avevo programmato Li sto facendo uscire Pian piano Adesso Durante questo mesetto Per quanto riguarda Le nuove serie Non c'erano nuove serie Per questo mese Probabilmente Le nuove serie Di tutto il network Si preannuncia La nuova serie Di tutto il network Penso verso Inizio gennaio Febbraio Come di soldi Perché prima No quali sono i mesetti In cui iniziamo le nuove serie E quindi per adesso Questo Per quanto riguarda Le nuove serie Per quanto riguarda I pack Sto facendo Delle update Giornalieri Non tanto bugia Non tanto Giornalieri Più settimanali Per esempio L'insgaff Sta dicendo Molti aggiornamenti E quindi Pian piano Sto migliorando Vari problemi Di compatibilità Tra cui Un problema Di fondo Su Forge Sul cycling Della P Della RF Perché non sapessi Cosa ho appena detto È una cosa strana Che non vi interessa Tranquilli E quindi Sto risolvendo Questi problemi Che comunque Sono problemi Molto Basilari Però sono problemi Minuscoli E quindi Pian piano Sto rilasciando Vari versioni Giornate E ho scoperto Che Minecraft È stato Forge Stato giornato All'1.8 Che però Noi non vedremo Fino a marzo Praticamente A febbraio-marzo Sì Non inizieremo La quinta stagione Di Minecraft Fino a marzo Quindi Questa stagione di Minecraft Sarà la più grande Che abbia mai fatto Perché durerà la bellezza Di 4 mesi 5 mesi Quindi Voglio arrivare a meno A 150 episodi O ancora di più Quindi Andiamo avanti così Siamo verso Addirittura Di arrivare a 50 Quindi Pian piano Andremo sempre avanti E voglio fare Avere un sacco Perché Voglio fare La serie completa Di Minecraft Questa quarta stagione Sarà quella più completa Rispetto alla seconda Per esempio Che è stata completa Sì ma non del tutto E Per questo vlog È tutto È tutto ciò che avevo da dirvi Come sempre Vi ringrazio per continuare a seguire Vi ricordo che qui sotto C'è una pagina Facebook Sono bianco Ora Piccoli Piccoli tips Sono bianco Perché ho tre luci Ho due luci qui sopra No Ho tre luci qui sopra Una luce qui E Tanta roba Ho tipo il monitor anche di qui E Sta seguendo un corso Che YouTube ha messo a disposizione Per poter migliorare Un po' la luce Quindi Un po' sta migliorando Quindi CG YouTube E Oltre a questo Sono stanco Sono stanco Ma continuo a fare video per voi Perché Mi Da tantissime gioie ogni giorno E Sono felice di fare Quattro video al giorno per voi Ci saranno nuove serie Non di Minecraft Probabilmente Ora Questa è una piccola cosa Un po' Così Perché non sono di tutto certo E Probabilmente Se il monitor non si spegne Il stronzo di monitor Ci saranno nuove serie Che non saranno di Minecraft Su giochi horror Quindi Quello che mi avete chiesto Ormai da Immensamente Tantissimi giorni Ci saranno Giochi horror Quindi Se volete giochi horror Tantissimi giochi horror Che probabilmente Non saranno fatti Solo Da me Quindi Ci sarà qualcuno con me E Big like Se questo video arriverà Mille like Sì Mille like Facciamo gli stronzi Inizierò la serie horror Su Un gioco Che uscirà presto Fra qualche giorno Quindi Ok Ci state Quindi Su con i like Ricordate È una pagina facebook Dove Sparo tante stronzate Però Posso sapere anche dove vado Cosa faccio Perché lo faccio Perché non muoio No Perché non muoio No Perché è brutta Come cosa Quindi Per adesso vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Tra le stesse è tutto Ciao Ciao ragazzi Ci vediamo Presto Nel prossimo vlog Ricordate Con questo secondo canale Dove c'è In cui sotto in descrizione In cui parlo di anime In cui oggi Ci saranno due episodi Due video Ciao Ciao